Partito ufficialmente il ritiro del Gubbio Calcio 2023-2024 in vista del prossimo campionato di Serie C. Dopo la due giorni di test medici e fisici la squadra ha iniziato a correre nell'impianto del Benamin Ubaldi. Campo di allenamento scelto per questa prima fase di preparazione, mentre il gruppo poi soggiornerà all'hotel Camino Vecchio di Fossato di Vico, con mini trasferimento quotidiano tra il centro e Gubino e l'area Fossatana. Un contesto che rimarrà immutato almeno sino a fine mese, con poi la possibilità di uno spostamento sempre nell'area della fascia, con prima amichevole fissata per giovedì 27 con il Cosenza al Barbetti. Saranno settimane intense per il gruppo di mister Piero Braglia, sempre affiancato dal vice Domenico De Simone e dal preparatore atletico Vito Barberio, mentre come preparatore dei portieri c'è Cristian Tosti al posto di Giovanni Pascolini. Questo mentre la società continua a muoversi sul mercato con il direttore sportivo Mignemi e il direttore generale Pannacci impegnati a Milano per condurre le operazioni. E il ritiro Federico Casolari, mediano della primavera del Sassuolo classe 2003, che andrà a rimpolpare con la sua giovane età il reparto di centrocampo. E c'è anche Alessio Di Massimo, 27enne esterno d'attacco di qualità e connotato pedigree per la categoria, che ha firmato un biennale con il rosso-blu. Oltre agli altri nuovi innesti, il portiere Vettorelli, laterali Fredi, Marco, il centrale difensivo Tozzuolo, oltre all'estremo difensore in prova Cozzella. Così è partito il cammino per arrivare nelle condizioni ottimali allo start del campionato, previsto al momento per il 27 agosto, che potrebbe slittare agli inizi di settembre a causa dei vari ricorsi che diverse società hanno presentato per la riammissione in serie B o in serie C.